Continua l'iniziativa di Ragazzi in Aula, progetto che permette ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di conoscere i processi decisionali che portano alla creazione delle leggi. Il 5 novembre si è riunita in commissione la classe Quinta C dell'Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato, che ha presentato un progetto di legge sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.